Ben trovati a tutti voi, torna l'appuntamento con parola al direttore, un appuntamento che inevitabilmente si era congelato a causa del coronavirus ma che riparte alla grande. Per fare un po' il punto della situazione di questi ultimi mesi naturalmente do il benvenuto al direttore di Libero Vittorio Feltri, bentornato direttore. È un piacere tornare da voi. Non avrei saputo dire quando sarei tornata perché continuavano a posticipare il momento del ritorno alla normalità eppure eccoci qui. Le chiedo subito come ha vissuto questi tre mesi, fermo restando che la sua attività è sempre andata avanti, però con le dovute restrizioni. Io però non ho modificato di una virgola le mie abitudini, nel senso che ho continuato a lavorare con orari normalissimi e quindi non ho sentito questa sospensione della vita corrente. Certamente non c'erano più i ristoranti aperti, per cui un po' mi è mancato questo perché almeno un paio di volte alla settimana non mi dispiaceva andare a pranzo o a cena fuori, come si dice. Ecco questo è stato l'unico sacrificio. Per il resto devo dire che al giornale eravamo rimasti pochissimi, quindi 4 o 5 persone che mandavano avanti la baracca, gli altri lavoravano da casa ed è molto difficile dirigere un giornale come dirigere un'orchestra, se l'orchestra non c'è l'hai davanti tutto si complica e quindi abbiamo lavorato un po' in modo stressante, però niente di che. Ecco approfitto subito per farle questa domanda, sa che in questo periodo, proprio perché molte persone hanno lavorato da casa, diciamo che gli italiani si sono divisi in due, chi ha cominciato a testere le lodi dello smart working, so che lei non ama i termini in inglese, quindi dirò lavoro agile e chi invece reputa che un lavoro agile fondamentalmente non sia poi la formula perfetta, quindi lei si posiziona da questa seconda parte? Io penso che il lavoro agile piace a quelli che non hanno tanta voglia di lavorare, quindi li capisco anche, ma non li posso apprezzare, credo che il lavoro vada fatto collegialmente, il lavoro è difficile che sia individuale, a meno che tu faccia lo scrittore, allora ti chiudi in casa, però gli altri lavori bisogna, io non riesco a capire che un mondo possa fare il dentista agile, quello non l'hanno ancora inventato secondo me, quindi trovo che anche tutti gli uffici pubblici chiusi, le banche che ricevevano solo su appuntamento, ci hanno un po' complicato la vita, però adesso vedo che le cose stanno riprendendo abbastanza velocemente, naturalmente sono tutti pessimisti, si leggono sui giornali articoli che fanno pensare a una catastrofe imminente, io invece non credo, penso che come sempre dopo le crisi economiche c'è un rimbalzo, magari vivremo un po' meno bene, ma continueremo a vivere a livelli degni di questi tempi. Adesso ci buttiamo proprio su questi temi, quindi abbiamo scoperto perché gliel'avrei chiesto che quello che le è mancato di più è il ristorante, anche questo comunque un tema adesso al di là delle battute è importante perché ancora i ristoranti per esempio rientrano in quelle categorie che fanno fatica a ripartire, no? Sì, fanno fatica perché siccome non ci possono essere addensamenti e quindi i ristoranti devono mettere pochi tavolini e fanno dei profitti molto bassi per cui è chiaro che non sono molto contenti e molti addirittura non hanno riaperto perché perderebbero anziché guadagnare, lo stesso vale per i bar, queste sono le due categorie che hanno sofferto di più, vedo che anche i negozi fanno molta fatica, per esempio ho visto che Zara non riapre più i suoi negozi che erano sempre affollati, però ripiegano sul web, sulle vendite online, perché poi c'è tutto il tema affitto o comunque negozio di proprietà, chi per esempio deve pagare l'affitto ma non ha le stesse entrate non può assolutamente far fronte, magari anche con una riduzione del personale, no? Perché comunque con meno persone che arrivano non possono permettersi e così poi parliamo anche della perita dei posti di lavoro e poi appunto lei però non è preoccupato diciamo per questa situazione, seppur con tanti punti interrogativi, non è pessimista più che preoccupato come molti? No, diciamo che io non sono mai pessimista, purtroppo è la realtà che è pessima e allora qualche volta non possiamo trascurare questo aspetto, ma siccome purtroppo sono vecchietto, ne ho viste di tutti i colori e so che dopo ogni crisi c'è un recupero, magari non al 100%, ma lentamente l'uomo torna a vivere come più gli conviene e succederà anche in questa circostanza. Gli italiani stanno però aspettando ancora molte risposte, questo è stato purtroppo un tema su cui si è sempre parlato fin dall'inizio, insomma dei provvedimenti del governo e di cui si sta ancora parlando perché a distanza di tre mesi effettivamente ci sono delle persone che ancora lamentano il fatto che non siano arrivati gli aiuti, che voto darebbe alla gestione del governo dell'emergenza coronavirus da un punto di vista economico, poi parliamo magari anche della sanità. Dal punto di vista economico non poteva che accadere quello che sta accadendo, perché il nostro è un paese indebitato, che ha un debito pubblico mostruoso, il più alto d'Europa e quindi è chiaro che distribuire soldi che non ci sono diventa difficile, il governo ha promesso denaro a tutti, ma non avendo in cassa il becco di un quadrino non è riuscito a far fronte agli impegni, quindi ha speso molte parole ma pochissimi soldi, questa è la verità, non può essere apprezzato e anche adesso che otterrà dei prestiti dall'Europa, questo si dice e naturalmente ci faranno piacere questi denari, però sono denari che sono a prestito, quindi non fanno altro che andare a caricare un debito già mostruoso, quindi il nostro debito aumenterà ulteriormente e questo non fa bene né all'economia né alla salute del paese. Ecco sì, poi anche qui c'è stata tutta la polemica sul fatto che si dicesse che i soldi che sarebbero arrivati dall'Europa sarebbero stati a fondo perduti, in realtà abbiamo scoperto che così non è, insomma quindi… L'Europa non è che se li inventa i soldi, li deve trovare e li può prestare ma non li può regalare, ma questo mi sembra tutto evidente e invece la gente pensava adesso qui riceveremo dei soldi, ma quali soldi, di chi? Non ci sono, quindi è molto difficile, peraltro noi già spendiamo un sacco di soldi per il reddito di cittadinanza, tutti questi quattrini vanno a debito anche questi, non fanno che aumentare il nostro passivo e pertanto non riesco a capire dove si possano trovare le risorse per aiutare anche quelli che hanno effettivamente bisogno, quelli che hanno perso il lavoro, ma non c'è neanche la cassa integrazione, cioè esiste fisicamente la cassa integrazione, purtroppo però finora non ha sganciato una lira. No, e poi se i soldi non ci sono, da dove si prendono i soldi per la cassa integrazione? Poi attenzione, tutti questi soldi vanno presi all'Inps, perché l'Inps invece è la previdenza ed è finanziata dai contributi dei lavoratori e dai datori di lavoro, questi soldi dovrebbero servire solo per le pensioni, invece vanno cassa integrazione, reddito di cittadinanza e poi non avanza una lira per i pensionati, che sono quelli che finanziano l'istituto. Oltretutto il tema della perita dei posti di lavoro è già, la stima è altissima, aumenterà questa stima quando non ci sarà più la clausola dei licenziamenti bloccati, adesso non si può licenziare, però poi inevitabilmente le aziende dovranno anche fare i conti con il bilancio e quindi aumenteranno ancora di più, ma il lavoro non salterà fuori sicuramente. Sono d'accordissimo con lei. Ecco direttore, io parlerei della Lombardia, che è stata la regione più colpita, si è detto di tutto rispetto anche alla gestione dell'emergenza del coronavirus, mi piacerebbe capire che idea si è fatto lei, anche perché soprattutto in questo periodo è abbastanza tartassata, nel senso che tutte le colpe si stanno dando proprio alla regione Lombardia, lei cosa ne pensa? Io trovo che tutte queste critiche siano sbagliate, perché non tengono conto della realtà, nessuno sapeva che cosa fosse il Covid, tant'è che lo chiamavamo virus, neanche Covid, quindi proprio era sconosciuto, sconosciuto e un nemico sconosciuto è difficile da combattere, non sai dov'è, non sai come fare, non sai che armi usare. Il fatto che la Lombardia abbia avuto il maggior numero di contagi si spiega molto facilmente, in Lombardia vivono 10 milioni di persone, quindi è la regione a maggior densità abitativa, è chiaro che non solo la Lombardia è piena di gente, quindi è più facile avere dei contatti che possono poi anche provocare delle infezioni, questo è evidente, non solo, ma la Lombardia, la locomotiva economica del paese, quindi non so, per esempio nella Berganasca che ci sono stati un sacco di morti, c'è una fabbrica ogni 20 metri, è fatale che questo raggruppamento di persone che lavorano ha facilitato i rapporti umani, perché quando si è in tanti si è più vicini e quindi il contagio è stato fenomenale, più che in altre regioni, è evidente che nel Molise questo non accade, c'è un paese ogni 15 chilometri, qui invece i paesi si susseguono e c'è una catena di fabbriche e poi anche di ristoranti, di bar e tutto questo ha facilitato una diffusione. Non è colpa di nessuno e quindi io non trovo polemiche, che queste polemiche siano sbagliate, poi per quanto riguarda le zone rosse, qui il problema c'è perché non è mai stata circoscritta la responsabilità delle regioni e del governo, cioè la sanità, a chi deve provvedere alla sanità? La regione o il governo centrale? C'è una confusione di ruoli per cui allora la zona rossa la deve dichiarare lo Stato, no la deve dichiarare la legge prevede che sia lo Stato, anche perché facciamoci un discorso molto terra a terra, qui c'è il governatore Fontana che non poteva fare zone rosse perché lui non dispone neanche dei vigili urbani, non dispone dell'esercito, non dispone della polizia, quindi tu come fai a fare un blocco se non hai gli uomini che poi ti ubbidiscono e fanno quello che gli chiedi? E' lo Stato che muove le forze dell'ordine e allora toccava lo Stato a fare. Certo perché appunto, giusto, nel senso che la sanità è in capo alla regione però tutto il resto, cioè la gestione dell'ordine pubblico legata proprio all'istituzione, in questo caso di zone rosse perché poi c'è proprio in questi giorni il tema di chi doveva dichiarare zona rossa, è evidente che era lo Stato, lì non poteva agire la Lombardia, questo secondo lei darà modo, speriamo finalmente quando l'emergenza passerà di delineare bene i confini di poteri tra state e regione? No, 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 perché quando si tratta di fare una riforma in Italia la si fa solo se peggiora le cose e quindi io non vedo la possibilità che questo possa accadere. Credo che tutte le polemiche contro la Lombardia abbiano una matrice politica, cioè siccome questa è una regione che funziona bene, è una regione nelle mani del centro-destra e tutto questo infastidisce la sinistra che si vuole invece impadronire della prima regione italiana, che ha scatenato delle polemiche per tentare di mandare via questa giunta e di tornare magari a votare nella speranza di vincere le elezioni la sinistra. Si era chiesto il commissariamento della regione, però poi dopo un paio di settimane in cui l'argomento era diventato centrale mi sembra che sia un po' sfumato. Adesso si sono complicate le cose per cui si placheranno un po' le polemiche e che si trasferiranno da Milano, diciamo così, a Roma. Prevedo, però andiamo a vedere. Anche perché sennò dobbiamo immaginare che la Lombardia sia diventata improvvisamente la pecora nera, però insomma mi sembra anche un po' troppo. È ridicolo, è ridicolo. Poi magari ci siano state delle cose da sistemare diversamente, ma questo credo che sia valsa un po' per tutti, perché lei ha detto che nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Io stessa l'ho sottovalutato all'inizio, credo anche lei, insomma direttore non voglio parlare per lei, ci mancherebbe, ma un po' tutti. Quindi di conseguenza chiunque magari avrà commesso degli errori, per insomma pecora nera. Le posso chiedere solo una cosa, poi cambiamo argomento. Qualche giorno fa lei ha scritto un suo editoriale, un suo articolo, in cui ha messo a confronto quello che lei aveva detto a proposito dei napoletani, insomma su cui è stato... Ecco, però relativamente proprio alle polemiche che adesso ci sono sulla Lombardia, cioè lei ha detto sostanzialmente perché nessuno fa caos, perché i Lombardi sono attaccati? Ecco, giusto le chiedo? La cosa è anche abbastanza fastidiosa, perché io quando ho detto che alcuni meridionali, non tutti, sono inferiori, non è che mi riferivo alle questioni antropologiche, lo so anch'io che D'Annunzio non è nato a Cuneo e Benedetto Croce non è nato a Rovigono, questo è ovvio che dal punto di vista intellettuale non possono essersi differenze, perché non ci sono differenze antropologiche, ma per quanto riguarda l'aspetto economico è del tutto evidente che il Nord è superiore, allora laddove c'è un superiore c'è qualcuno che è inferiore, cioè il Sud che è disorganizzato, ma non tanto per colpa dei meridionali, il problema è che non ci sono infrastrutture idonee, neanche i trasporti ci sono, tant'è che se deve andare a Matera sta in giro 15 giorni e allora questo che cosa comporta? Comporta che mancando le infrastrutture manca la possibilità di sviluppo e infatti non riesce a svilupparsi il Sud per questi motivi, quindi il problema è politico e organizzativo e poi basta vedere il dominio che hanno le mafie al Sud per capire che qualcosa non funziona, è vero che le mafie si trasferiscono anche qua, ma non è esattamente così, trasferiscono i soldi qua, perché i soldi da qualunque parte arrivino, vanno dove conviene e quindi vengono qui perché qui ci sono gli affari da portare a termine, poi bisogna anche considerare che c'è tutto il problema del risparmio, gli italiani sono il popolo europeo che ha maggior risparmio privato, cioè ciascuno di noi ha dei soldi, certo che le statistiche danno la cifra globale, poi c'è chi ha 1000 Euro e c'è chi ha un milione di Euro, questo è evidente, lo sappiamo, però se siamo il paese con il maggior introito privato che finisce in banca sui conti correnti, vuole dire che gli italiani sono bravi ad amministrarsi e siccome la maggior parte del risparmio è al nord, anche questo dimostra che c'è una differenza sostanziale tra il nord e il sud, ma non lo scopro mica io, lo sappiamo da sempre e siccome io l'ho fatto notare ho avuto addosso mezza Italia, mi hanno insultato dicendo che io sono un pazzo, dire queste cose, sono razzista, ma in realtà quando uno dice la verità poi viene preso da pazzo. Insomma diciamo che i Lombardi sembra non difenderli nessuno, anzi c'è un piacere di attaccare la Lombardia perché la Lombardia è invidiata, essendo la più ricca, essendo quella che funziona meglio è invidiata, poi l'invidia genera desiderio di vendetta, adesso che c'è l'appiglio del coronavirus tu ti addosso a Lombardia come se il coronavirus fosse nato in una officina dell'abrianza, cioè siamo alla follia, siamo alla follia. Quindi non siamo diventati tutti più buoni dopo questo coronavirus? No, più cattivi, molto più cattivi come era ovvio, come si può pensare che una malattia ti renda più sereno, ti fa incazzare la malattia. Parliamo adesso di Conte, del Presidente del Consiglio, perché ancora una volta sembrerebbe esserci questo scollamento tra i sondaggi, quindi tra l'ipotetico gradimento degli italiani e poi l'effettiva realtà, perché proprio qualche giorno fa abbiamo visto Conte abbastanza criticato. Certo, c'era stato un piccolo aumento, perché questo signore prometteva denaro a tutti e quei pirri degli italiani ci hanno creduto, ignorando che se i soldi non ci sono non possono essere distribuiti. Chiunque le avesse promessi insomma. Chiunque, certo, tu prometti mari e monti, poi non c'è nel mare e nel monte, è chiaro che poi ti arabi e reagisci di conseguenza. Ma secondo lei è possibile che si vada a votare presto? Credo che in questo momento non sarebbe assolutamente il caso di andare a votare, questo io credo che sia quasi impossibile, però in autunno può darsi che si credino le condizioni anche ambientali, tali da favorire la possibilità di un voto. Chi secondo lei a livello giornalistico ha condotto meglio i dibattiti in questo periodo di coronavirus? C'è un suo collega o una trasmissione? Non so se posso essere sincero fino in fondo, ma a me questa menata del virus mi ha scocciato, io non ne posso più di parlarne e cerco di evitare anche solo di fare degli accendi. E poi per il resto è stata una tragedia, perché accendevi la televisione e c'era un virologo che diceva A, dopo dieci minuti c'era un altro virologo che diceva B, i giornalisti che non sanno niente né di A né di B hanno fatto un gran casino, per cui la gente si è spaventata, non ha capito un tubo, un giorno i guanti sono indispensabili, il giorno dopo sono dannosi, la mascherina, di fronte a un'informazione fatta così non è tanto colpa dei giornalisti, ma sono le fonti dell'informazione che hanno sbagliato, perché ci siamo affidati ai virologi, i quali invece di stare in laboratorio a lavorare, a fare il loro mestiere, andavano in televisione a fare i divi. Mamma mia, mi sono accorta che tutta questa parte dell'intervista l'ho dedicata anche il coronavirus, mi perdonerà, adesso abbiamo messo sul piano del costume. No, no, assolutamente, per fare un po' un recap, però proprio approfitto del fatto che non ne può più di parlare di coronavirus per chiederle altre due cose, intanto il fatto che l'emergenza, forse quella più pesante, stia passando, arriva da altre notizie, sa che appunto, come ha detto lei, prima si accendeva la televisione e si sentiva solo parlare del coronavirus, adesso si cominciano a sentire altre notizie. Che idea si è fatto di Salvini magistratura con questa frase che circolava in chat, Salvini ha ragione però va attaccato, è la conferma di cose che abbiamo anche a volte analizzato insieme? Sì, è l'evidenza, quando un magistrato importante dice che Salvini ha ragione ma bisogna appestarlo lo stesso, è l'ammissione della parzialità anche della giustizia che viene manovrata come se fosse un soggetto politico e questo è veramente deprimente, ma si sapeva, perché purtroppo è l'umanità che fa schifo, quindi se l'umanità fa schifo, se c'è una parte di umanità che fa il magistrato, farà schifo anche il magistrato, non tutti, ma c'è una parte marcia, quella di questi mezzi delinquenti è una categoria trasversale, ci sono i geometri mascalzoni, ci sono gli ingegneri mascalzoni, i giornalisti mascalzoni e ci sono anche i magistrati mascalzoni, è del tutto normale. Peraltro è tornato anche di attualità il tema dell'immigrazione con questo dossier degli 007 che è stato consegnato al Viminale che avrebbe anticipato una ondata di sbarchi importanti. 20 mila. Sì, tantissimi, quindi sbarchi, sarà un ulteriore problema che si aggiunge all'Italia, insomma, perché poi lì è in questione di risorse, attenzione, perché poi sappiamo direttore che se no ecco i razzisti che parlano, no, parliamo di risorse, cioè è ovvio che se dovessero arrivare ancora molte persone in un momento delicato come questo potrebbe esserci davvero il default a livello economico. Beh, adesso non credo che l'immigrazione si possa mettere in ginocchio dal punto di vista economico, perché in ginocchio ci andiamo anche da soli, quindi credo che non ci sia bisogno dell'ausilio degli immigrati. L'immigrazione è un fenomeno che nasce con l'uomo, l'uomo ha sempre cercato di andare nei luoghi dove presumibilmente poteva vivere meglio, no, è sempre stato così. Certo, ed è giusto che sia così. Però, attenzione, l'immigrazione non può essere arrestata ma va governata. Invece noi non abbiamo mai governato niente. Noi facciamo entrare cani e porci, poi arrivano a Milano, fanno la pipì nelle aiuole e tutti si incazzano perché fanno la pipì nelle aiuole. Ma se uno non ha la casa dove vuoi che la faccia la pipì, se non nelle aiuole. Cioè, dobbiamo essere anche più coerenti, quindi attenzione. Gli arrivi vanno misurati, calibrati e invece no, qui dentro tutti e poi qualcuno provvederà. Forse un'ultima domanda, è una situazione diversa, però parliamo sempre di accuse di razzismo, quello che è accaduto in America e sta accadendo in America con le proteste dopo il fatto di Floyd. Cosa dice? Razzismo sì è la nuova pandemia oppure strumentalizzazione per una situazione che evidentemente sta sfuggendo di mano anche lì? Bisogna riconoscere che negli Stati Uniti il razzismo nasce 300 anni fa, quando gli americani andavano in Africa, caricavano le navi di poveri uomini neri con le catene, magari tenendoli a digiuno, li portavano negli Stati Uniti e li schiavizzavano. È ovvio che poi il razzismo esplode e non è mai morto negli Stati Uniti. Quindi il problema del razzismo negli Stati Uniti è una cosa, qui da noi io non ho mai assistito a un episodio di razzismo, qui mai. Ho assistito, diciamo così, a episodi di criminalità comune, ma questo non va confuso. Beh, l'intolleranza, ma l'intolleranza ce l'abbiamo anche tra di noi, mi perdoni direttore. Ma certo, ma proprio gli italiani razzisti non sono, saranno cretini, ma non razzisti. E Trump rischia, visto che si va verso le elezioni, crede che potrebbe essere riconfermato alla Presidenza degli Stati Uniti? Sicuramente io non sono un mago e fare delle previsioni mi è molto difficile, però non mi sembra che questo episodio, che è grave, possa essere attribuito a Trump, non c'entra niente a Trump. Perché la polizia americana, perché è più aggressiva della nostra? Perché gli americani sono armati, hanno molte armi, per cui la polizia è prevenuta nei confronti di chi si ribella. E quindi è portata a usare le maniere forti, che è sbagliatissimo, però i fenomeni vanno spiegati, vanno interpretati e capiti. E io credo che quello americano si spieghi con queste poche parole che io ho detto. Siamo in conclusione, però mi permetta l'ultimissima cosa, direttore, perché chi ci segue vuole sapere anche questo. Allora, io le devo dire la verità, la nostra ipotetica relazione era uno strazio. Ma sì, è uno strazio. Poi abbiamo contro tutto, anche il virus si è accanito. E sì, perché l'ultima volta che noi ci siamo visti eravamo rimasti con questo invito a una cena di gala che avrebbe dovuto decretare… Sì, al principe di Savoia, non mi ricordo. Guardi, no, in borsa italiana addirittura, a Palazzo Mezzanotte. E però niente, e quindi io non so più cosa dire, dobbiamo continuamente rimandare, ma insomma, facciamo così, sarà un gioco a chi si stanca prima, vediamo chi ha più tenaccia. Io potrei suggerire che invece di trovarci a Palazzo Mezzanotte si può trovare il ***. Scherzo evidentemente, perché poi ci prendono sul senso. No, 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 infatti, ma guardi, va bene, adesso sentirò il mio collega, lo bipperemo, lo censureremo. Grazie, direttore. Grazie. Vabbè, questo strazio vedremo. Speriamo che intanto passi questo strazio in senso buono del coronavirus e che l'Italia possa… Stia tranquilla che lentamente le cose peggioreranno. Non dico più niente, stavo dicendo il contrario, ma lascio la chiusa come sempre. Grazie, direttore Feltri, alla prossima. Grazie.